Forza figlia mia cominci, ma riguardo a te che qui non si è recita, qui si dice la verità. Non sono qui per me padre, ma per l'uomo che ha. Eh, lo so che lo ami, ma sai anche che non è il tuo uomo, è il marito di un altro, vero? C'è un brutto male, ai medici gli hanno dato pochi mesi di vita, ma non sarai certo dove salvarlo, se tu non lo lasci, lo farei morire nel peccato. Ma padre io lo amo, come faccio a lasciarlo? Scegli, vuoi il tuo amore o la sua vita. Ma adesso, Mattino. Ma padre io non posso. Basta! Non pretenderei di avere una soluzione, no? Soffri se sai che faccia, eh? Taci e prega, Mattino. Ciao! Ciao! Buongiorno! Buongiorno! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora figlia mia, che hai deciso? Lo lascio, padre. Lo lascio, perché si salve. Si salve, si salve. E io. Tu avrai sempre con un amico Gesù, non resterai mai solo. E che te absorba, perché ti sto in nome di Padre, e te vi, e te Spiritus Sancti.